A un anno di distanza voglio dirvi che sono fiera di quello che abbiamo fatto, che sono fiera di noi, della nostra comunità politica, della nostra classe dirigente, che sono fiera anche di me stessa, concedetemelo, perché dopo un anno di governo posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa identica persona, con qualche ruga in più magari, però sempre la stessa persona, perché ho camminato a testa alta ovunque, non sono scesa a compromessi, ho fatto sempre e solo quello che reputavo giusto fare, anche quando bisognava pagarne lo scotto, perché è così che noi siamo cresciuti, è così che intendiamo la politica. Sono orgogliosa della compattezza della maggioranza, nonostante i tentativi, tutti tragicamente falliti, di dividerci e di farci litigare, perché in fondo noi abbiamo una visione comune e siamo tutti consapevoli della enorme responsabilità che portiamo sulle spalle. Ma soprattutto sono fiera dei nostri tanti risultati, dei tanti obiettivi del nostro programma che abbiamo già realizzato in questo primo anno e che abbiamo il coraggio e la pazienza per scardinare a una a una le incrostazioni di potere che hanno affogato questa nazione, riformare nel profondo quello che va riformato senza guardare in faccia a nessuno. E badate bene, questa è anche la ragione per la quale la cattiveria verso di noi, i metodi che si utilizzano per tentare di indebolirci, hanno raggiunto vette mai viste prima. Un anno di governo, quali sono i risultati che traete da questo bilancio? Ma intanto bisogna comprendere che è un anno di cinque che intendiamo vivere per dare compimento alla legislatura, all'attuazione di un programma nella sua interessa. E già questo primo anno ha dato degli indicatori positivi sul piano economico dove tutte le nostre stime sono state riviste, ma al rialzo e soprattutto ci sono già dei risultati significativi sulle promesse elettorali, penso al reddito di cittadinanza e alla capacità di sviluppare maggiore ricchezza e anche di sostenere fasce deboli come stiamo appunto facendo con questa manovra. Abbiamo parlato anche di sanità, in Emilia Romagna è un tema molto caldo, voi sostenete che non c'è stato un depotenziamento del servizio? Basta guardare i numeri, questo governo ha stanziato 136 miliardi sulla sanità nell'ultima manovra, cifra mai più alta raggiunta nella storia della Repubblica anche rispetto al periodo del Covid con incrementi significativi superiori anche a 10-12 miliardi rispetto agli stanziamenti negli anni precedenti, però abbiamo voluto dire con chiarezza che bisogna finalizzarle all'abbattimento dell'istituto di attesa. Se qualcuno vuol prendere i soldi che il governo dà e che quindi gli italiani mettono sul tavolo per creare della burocrazia politica come purtroppo in Emilia Romagna siamo abituati a vedere, non siamo d'accordo, non glielo consentiremo.